Questo video riguarda i migliori tre selle per bicicletta. Il vincitore della qualità è il Yangdo Sella Bici. La sella per bicicletta accomoda Yangdo dal design ergonomico a una zona anteriore stretta per permettere alla coscia di muoversi liberamente ed evitare lo sfregamento dell'interno coscia, una zona posteriore abbastanza ampia per aumenta il supporto dei glutei per un maggiore comfort. Questa sella bici per mountain bike è fatta di pelle più resistente all'usura con rivestimento impermeabile del sedile, il suo interno è riempito con schiuma di gel ad alta densità, che è elastico e morbido, offre più comfort di guida. La sella bici morbida offre circolazione traspirante e comfort durante il ciclismo a lunga distanza, più permeabile e adatto ai glutei. La struttura con supporto a molla nella parte inferiore assicura sospensione potente e una forte presa. La superficie della nostra sella bici da corsa in gel è anche incisa con un modello antiscivolo in modo da poter guidare senza stress, aiutandoti a guidare più comodamente. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Schenky Selle per bicicletta. Il sedile della bici è imbottito da una spessa schiuma di memoria ad alta densità più spessa, morbida e confortevole. Design dello slot di diversione dell'aria nel mezzo della copertura del sedile della ciclette, velocizza il flusso d'aria e la dissipazione del calore, mantiene i glutei freschi e asciutti. Dual shock che assorbe la palla progettato, utilizzando una doppia sfera che assorbe gli urti nella parte inferiore del cuscino, una buona elasticità, robustezza, maggiore resistenza, flessibilità e facile da affrontare con terreni accidentati. Il comodo sedile per bici migliora la qualità di guida della maggior parte delle moto come cruiser, mountain bike, city bike da strada, ibridi. Se non sei completamente soddisfatto della nostra sella per bici entro il primo anno, ti preghiamo di contattarci e ti rimborseremo i soldi, non hai alcun rischio. Il vincitore del premio è il Brex di decimo sella per bicicletta. Questa sella per bicicletta di alta qualità è realizzata con materiali di alta qualità e resistenti. La seduta è rivestita in pelle sintetica idrorepellente più leder e artificial fatti gel morbido, elastico, antiscivolo, impermeabile e resistente all'usura. Questa sella è adatta alla maggior parte dei tipi di biciclette e facile da montare. Perfetto per qualsiasi bici da città, MTB o bici da trekking. Il design aerodinamico con design anteriore stretto impedisce la sezione delle gambe, consentendo alle cosce di muoversi liberamente durante la guida. Il design allo offre ventilazione, può ridurre il materiale nel mezzo della sella, renderlo più leggero e più traspirante. Il sedile della bicicletta ha un sistema di adattamento universale, che consente il montaggio su quasi tutti i tipi di biciclette. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.